Buongiorno a tutti, purtroppo le cose non sempre vanno bene, qualche volta, anzi come dico in qualche occasione dovete sapere che la mamma dei cretini è sempre incinta e allora dei vandali dopo aver preso di mira il monumento che avevamo dedicato, questa notte hanno preso di mira anche la nostra panchina arcobaleno che è stata staccata dalla sede, è stata rotta in varie parti, ora ve la faccio vedere se è impossibile, vedete è stata staccata, è tutta assolutamente rovinata noi però siamo più forti dei vandali, quindi provvederemo a riaggiustare questa panchina, a sostituirla così come provvederemo per il monumento di Aldomoro e questi vandali non devono averla vinta di noi, sulla nostra franca villa, su questo buongiorno fantastico che vedete con il mare ebbene, forza, forza, siamo più forti noi